Ciao, sono Daniela e sono una Ballon Artist e oggi faremo insieme questa bellissima composizione. All'interno di questo video ti insegnerò una tecnica per realizzarla in un modo molto stabile. Come vedete, adesso andiamo a farlo insieme. I materiali che useremo oggi per la nostra bellissima composizione sono cartoncino, questo qui è ondulato e io lo userò in bianco, colore bianco. Poi ho un palloncino, ok, a personaggio, col personaggio in questo caso farò Mario Bros. E due stelline, questi sono 9 pollici e una stella un po' più grande, questa è 18 pollici. Ho anche del nastro, io lo userò rosso, così sono a tema. Dello scotch, cioccolatini, io qui ne ho 7, pompa manuale, ho anche questa base in polistirolo rotonda di più o meno 15 centimetri. Barbici, queste astine in bambù che sono quelli per gli spiedini. E ne userò sempre 7, poi due di quelli un po' più grandi, un'astina, quella per i palloncini, un nome personalizzato, cioè una scritta in vinile, potete usare anche tranquillamente il pennarello. La colla a caldo. E ho questa carta qui, che potete farla anche voi, con della normale calda, tagliate. Che ti serve per poi riempire la nostra scatola. Bene, inizieremo facendo la nostra scatola. Io questa composizione la farò da zero, non ho scatola, quindi faremo anche la scatola, così vediamo insieme come si potrebbe fare. Allora, vi do esattamente la misura di questa base rotonda in polistirolo, che è 16,5, potrebbe andare benissimo anche un 16, e di altezza è 10. Io ho già ritagliato da questo cartoncino qui il pezzo che mi servirà per andare a coprire, per formare la nostra scatola. E di altezza io la sto facendo, questa qui. Altezza è 16 e lungo è 55. Quindi una volta che avete tagliato questo qui, andremo semplicemente ad incolarla intorno alla nostra base in polistirolo. E per questo ci aiuteremo con la colla a caldo. Cercate che magari la colla a caldo non sia troppo troppo calda, ok? Perché può bucare il polistirolo. Se magari vedete che è troppo calda, la scollegate e lavorate con la colla scollegata. Così dovete circondare la nostra base. Porto su anche sul cartoncino. Così abbiamo la nostra scatolina pronta. Una volta che abbiamo la scatolina pronta, andremo a sistemare anche i cioccolatini. Mi piace lavorare nel senso che ho tutto pronto e poi vado al montaggio. Per i cioccolatini, come vi dicevo, userò queste astine qui in bambù. Quelli che sono per gli spiedini, ok? Posiziono per bene il cioccolatino, poi giro. Apro la parte dove c'è questa linguetta dietro l'artichetta, dietro dove ci sono tutti gli ingredienti, così. E vado a posizionare la mia astina con un po' di silicone. L'ho posizionata in questo modo per poi andare a coprire l'astina. Sempre con la carta, con la plastica. E in più ci metterò un po' di scotch trasparente, ok? Non ce lo mettete magari oscuro, così che copra gli ingredienti, perché è comunque importante che si veda la scadenza e tutti gli ingredienti, ok? E ce lo vado a incollare semplicemente sopra. In questo modo. Così. Lo preparo in questo modo. Mi preparo tutti i miei cioccolatini nello stesso modo. Alzo le linguette dietro, un po' di colla. E vado ad incollare, ok? E poi chiudo. Poi taglio un po' di scotch. Questo mi serve per rinforzare, così non scappa. Vedete? Io ho già qui tutti i miei cioccolatini pronti. E ne ho fatto sette. Sette, ce l'ho tutti pronti già qui. Ok? Me li metto da una parte. Adesso invece vado a gonfiare i palloncini. Io ho già qui il mio Super Mario gonfiato, le stelline. Questi palloncini qui non hanno una valvola, questi piccolini. Io li ho chiusi con un macchinario apposito per chiudere questi palloncini. Ma se non ce l'avete, nessun problema. Quando gonfiate, ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere. Vedete? Se gonfio, lo tengo più fermo, non faccio scappare l'aria e poi faccio dei giri. Ok? Faccio un po' di giri. E poi mi aiuto con un modellabile per chiuderlo. Ok? Ci tolgo l'aria, il modellabile. E poi anche con questo faccio magari due o tre giri. Ok? E poi chiudete. Avete sempre un palloncino, anche se non avete la macchina per chiudere questo. Facciamo lo stesso con le due stelline. Invece, quello 18 pollici solitamente ha la valvola. Quasi sempre. Ok? E questo lo gonfiamo normalmente. Vedete? In questa modo. Abbiamo la nostra stellina. Quella grande andrà in quella stina proprio per palloncini, quello grande. Io ci metto sempre un po' di colla caldo dentro. Così assicuro. Sto tranquilla che non mi scappa, ok? Adesso è un po' difficile trovare le astine piccole per i palloncini, quelle normali, perché fai con la plastica. Quindi io uso le testine e poi uso una stacchina, quelle di bambù, sempre un po' più grandi. Quindi, visto che non ci sta alla perfezione, anche qui ci metto un po' di colla. Adesso vado a posizionare la mia stella grande alla stina. Ok? E per farlo mi aiuterò con un modellabile. Chiudo così. Giro, 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 giro. E poi chiudo. Facendo due noni. E poi vado a posizionarla qui sopra. Faccio passare da una parte e dall'altra. Poi tiro giù. E faccio i tiri. Ok? Ok? In questo modo. Così abbiamo la nostra stella più grande. Poi faremo la stessa cosa con il personaggio, ma su quelle piccoline. Tagliamo il rimanente. Se volete coprire questa parte, io lo faccio quasi sempre con il fine della valvola, vedete? Metto appena una puntina di silicone. Ho voluto fare questo tutorial perché mi sembra un'idea molto carina da regalare. Magari per un compleanno, così, per dei bambini. Si può fare anche per degli adulti. Io l'ho fatto molte volte anche con magari solo le rose qui. E poi un palloncino trasparente, un bubble, con dentro tutti i palloncini piccoli. Se volete vedere un tutorial anche di quello, fatemelo sapere nei commenti. Così la prossima volta lo facciamo. Bene. Io sto riutilizzando queste stelline che ce l'avevo già. Quindi anche queste le vado a produzionare sulle nostre astine. Queste che sono un po' meno pesanti possono andare anche direttamente senza modellabile. Perché comunque hanno la valvola abbastanza grande. Cioè, luna, quindi faccio la stessa cosa. Una volta che abbiamo tutti i nostri palloncini pronti e anche i nostri cioccolatini, andremo col montaggio. Posizionerò prima quella grande, che è quella che farà, diciamo, da sfondo. Ok? Io misuro un pochettino così e vedo che è troppo in alto. Vorrei che fosse un po' più bassa. Semplicemente taglio questo qui e lo faccio in questo modo, non dritto, ok? Ma verso il su, vedete? E così mi aiuta anche quando vado ad inserirlo dentro. Io mi aiuto sempre, magari prima, facendo un buchino più o meno dove lo vorrei posizionare. Posizionare così scende più senza fare troppa fatica. Faccio dei buchini, poi lo vorrei posizionare. In questo modo, vedete? Qui ho posizionato già la stellina. Non taglio ancora questo perché magari mi può servire per metterci qualcosina. Adesso il personaggio che lo vorrei mettere in questo modo, ma che incastri qua sotto. Ok? Vedo che è troppo alto. Anche qui vado a tagliare. Io faccio prima sempre il segno così. E poi sto. E anche qui mi faccio più o meno il segno dove lo vorrei inserire. Vedete? Adesso scivola, ma poi dopo lo andremo ad incolare dove lo vorremmo lasciare. Ok? Così. E poi vorrei inserire una stellina da questa parte e una qua sotto. Anche qui vedo che è troppo alto. Vedete? Taglio. E poi vorrei posizionare questa qui in basso. Oppure qua in alto anche. Vedete? Preferisco qua in alto. Questa non è tanto lunga, quindi tanto alta, quindi posso posizionarla tranquillamente. Vedete? In questo modo. Questo praticamente è il dietro. Adesso è il turno dei cioccolatini. Anche qui, questi qui andranno in questo spazio, ok? Quindi io parto sempre, diciamo, cioè faccio una specie di arco. E cerco anche di coprire un po' i bucchini. Questo lo posizionerò qui. Questo comunque dopo, cioè, va a piacere come li volete posizionare. Io vi do una idea di come si potrebbe fare. Così. Poi con questi vado qui davanti. Copro anche il buchino qui davanti. Vedete? Sto cercando comunque di coprire questo spazio. Poi questo lo vorrei centrale. Poi gli altri piccolini qui davanti. Vedete? In questo modo. Adesso che ci ho posizionati, controllo che sia tutto stabile, ok? E adesso per fissare questo mi aiuterò con la colla a caldo. Se non avete quella a bassa temperatura, semplicemente quella che avete lì, quella normale che avete, la scollegate, la lasciate un attimino e poi ci lavorate. Io vi vado a riempire la parte sotto per coprire qui dentro con questo qui. e questo vi darà anche un po' di movimento giù, vi darà, sembrerà più pieno. Ok? Vado anche dalla parte dietro. Riempito un po' da tutte le parti. Vedete che riempie molto questo qui. Ho riempito qui. E adesso vado ad incolare tra di loro i palloncini così hanno più stabilità. Ok? Io in questo momento sto lavorando con una colla a caldo normale. Ok? Non è a bassa temperatura, ma prima l'ho scollegata. Ho lasciato un attimino che si raffreddi un po', perché se no mi potrebbe scoppiare i palloncini. In questo modo i palloncini avranno più stabilità. Ora vado a decorare un pochettino la scatola. Ci metterò questo nastro qua sotto. Ok? Quando io ho iniziato, praticamente ho aperto la partita IVA. Avevo ancora il lavoratorio domestico. e l'avevo aperto nel 2019, a luglio più o meno. E poi, come sapete, è arrivato subito il Covid. Cioè, siamo stati in quarantena, quindi sapete, questo lavoro non si poteva fare. E in Sud America questi vanno molto. Quindi ho detto, dai, ci provo. Visto che è una cosa molto carina da regalare. e poi bastava, nel senso, portarla a casa di qualcuno. Cioè, si faceva la consegna ed eri a posto, non devi montare, non devi stare in contatto con altra gente. Quindi era un'ottima opzione. E ne ho fatto davvero tantissime. Quindi ho iniziato, diciamo, con una cosa del genere. Adesso qui ho un buchino. E vorrei farci un bel fiocchetto. Così non mi rimane quel vuoto. Lo sapete fare, questo fiocchetto qui? O come fate i vostri fiocchetti? Poi, ovviamente, questo va a creatività, a fantasia. Potete usare il tema che volete. Come vi dicevo, avevo riempito una volta di fiori, un'altra volta avevo messo dei regalini che mi aveva dato il fidanzato di questa ragazza. mi aveva dato dei profumi e ce l'avevo messi dentro. Ah, una volta avevo messo anche del formaggio. Sapete, noi siamo a Parma e quindi questa persona doveva viaggiare dove voleva portare questo regalo. Avevo fatto una cosa simile con il formaggio e i salumi. Ecco qui. Vedete? Adesso ci scrive, che metterò la scritta, quella che ho fatto io in vinile. Molta gente lo fa anche con i penarelli, ma io non sono bravissima a disegnare o non ho una bella scrittura. Quindi per fortuna che c'è la silhouette. Mi aiuto con una tessera. O potete anche prendere le scritte che ci sono su Amazon Adhesive, lettera per lettere, e poi comporre la frase che vi interessa. Qui mi rimane ancora uno spazio. Vedete? Un vuoto. Potete tranquillamente metterci magari il nome del festeggiato oppure se avete un'etichetta del vostro negozio lo potete mettere qui se lo dovete vendere o una frase. Io ci metterò questa etichetta che ci mettevo di solito che è del mio negozio. Ma prima vi volevo invitare a iscrivervi al nostro canale, a metterci un bel mi piace, a commentare tutti tutti i dubbi che avete sia di questa composizione sia di altre che così io in un prossimo video posso rispondervi. quindi adesso ci inserirò questa scritta qui che è proprio l'etichetta del mio negozio e queste sono già adesive. Così copro questo buchino. Ecco qui. Vi volevo far vedere come la nostra composizione è bella stabile. Si può trasportare tranquillamente. Bene, direi che anche per oggi abbiamo finito. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io oggi ho voluto portarvi una cosa diversa così in modo che potete realizzarla da casa anche magari chi non fa questo mestiere. Ok? Questa è una bellissima idea e regalo. Spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti se avete qualche dubbio. E noi ci vediamo alla prossima. Spero che vi sia piaciuto